Saliamo Tadà! No vabbè Vi giuro E' pazzesca Sotto cosa? Con il pulsante si accende Questa è la nostra casetta per questi giorni Troppo, troppo, troppo Bella Oh ma troppo carina Céline Con questo costumino a quadrettini E i codini Fa perfino rima Aspettate i prossimi aggiornamenti Nel frattempo se volete Lasciateci un like Ciao